Buongiorno, bentrovati dal vostro veterano di fantacalcio, venerdì 26 febbraio, siamo alle porte della quinta giornata di ritorno di Serie A. Non partirà stasera la giornata di Serie A perché c'è stato l'invio di Torino Sassuolo, quindi siamo pronti per domani con la partenza, quindi abbiamo un giorno in più per avere tranquillità nel gestire le nostre formazioni. Ci sono casi delicati che si chiamano Zeko, si chiamano Morata, si chiamano Ilicic. Da valutare questi giocatori appunto come saranno posizionati in questi giorni, se riusciranno a essere presenti nella prossima giornata di campionato. Come sempre in questi giorni faccio un check per quanto riguarda i flop 11, top 11, l'analisi della schierabilità di alcuni giocatori. Mi avviso un video molto interessante alle porte della giornata di fantacalcio. Prima di partire vi ricordo ovviamente che qua sopra ci sono tutti i miei social, non so se quali seguirmi. Vi ricordo l'iscrizione al canale YouTube, il veterano del fantacalcio, siamo più di 3.000, quindi obiettivo 5.000 entro l'estate. Quindi grazie di cuore che vorrà farmi condivisione del canale tramite i propri contatti social, i propri amici, anche i propri avversari di fantacalcio, non fatti assolutamente scrupoli perché questo può comunque garantirci, garantirmi un'esponenziale crescita del canale. Quindi veramente grazie di cuore a tutti, grazie agli amici di Magic Goal che come sempre mi sono di supporto con le bellissime grafiche. Quindi partiamo con questo video, partiamo dai flop 11, quindi quelli che potenzialmente potrebbero fare male in questo turno di campionato. Partiamo da Perin, una fantamida del 5, quindi una fantamida comunque discreta, anzi direi buona, visto l'arrivo di Ballardini comunque sta facendo bene il portiere italiano. La partita sarà abbastanza ostica contro un Inter veramente in salute che in casa comunque fa molto bene. Quindi potenzialmente ci sono parecchi malus al suo passivo, quindi se riuscite a evitare di schierare l'estremo portiere del Grifone forse fate una buona cosa per questo match. In difesa ho messo Magagliano, Gagliolo e Tuglia che sono giocatori che affrontano partite delicate. Sicuramente Magagliano è una partita alla portata, ma comunque il Cagliari di semplici vorrà dimostrare di essere all'altezza della situazione. Ho messo Gagliolo perché il ritorno di Inzola mette un po' paura alla retroguardia parmese, lui sarà schierato centrale, quindi attenzione a lui e ai suoi potenziali malus. Attenzione anche a Tuglia che affronta un Napoli che comunque ha vinto contro il Granada, vorrà sicuramente fare bene nel derby campano, quindi Tuglia lo vede un attimino in difficoltà. A centrocampo vi ho messo Badeli, Ekdal, Arslan e Tonali, sono centrocampisti di rottura la maggior parte. Badeli ha segnato l'ultimo match contro il Verona, non ha sicuramente una partita facile contro un centrocampo dell'Inter che veramente può mettere in difficoltà chiunque. Ekdal, anche lui contro il centrocampo dell'Atalanta, ha sicuramente momenti di difficoltà e le avrà sicuramente, quindi massima attenzione anche lui. Arslan non ha una partita estremamente complicata perché è contro la Fiorentina, però non mi sta convincendo appieno. E Tonali invece che potrebbe essere schierato titolare da Milan sicuramente avrà un'esperienza difficile visto che domenica sera dovrà affrontare una Roma veramente veramente in salute, quindi eviterà il numero 8 del Milan. In attacca vi ho messo la Padula, Caramò e Di Carmine, sono giocatori che per diversi motivi ho messo nella potenziale flop 11. Di Carmine comunque non mi ha convinto al Verona, non mi sta convincendo neanche a Crotone, quindi continuo a sconsigliarlo. Caramò, anche lui è abbastanza fumoso, la partita contro la Spezia non è comunque delle più semplici e lui comunque può essere sostituito anche a gara in corso. Mentre la Padula continua a non segnare, segna solo contro di me e quindi non gioca contro di me questo turno, quindi per questo turno lo sconsigliano, ma scherzi a parte. Si sta mangiando parecchie occasioni da gol, ci mette tanto impegno, ma a livello di bonus poco niente. Passiamo a parlare della top 11, potenziali top 11 di questa giornata. In parte vi ho messo Scesni, perché credo che in campionato la Juventus possa fare ancora bene, affronta un Verona che comunque sta messo bene, però l'estremo portiere ha dimostrato di sapere far bene come clean sheet in diverse partite e sono qualche partita che subisce gol, ma credo che il portiere polacco possa fare bene in questo match. In difesa vi ho messo Acerbi, De Vries e Gosens, sono difensori di modificatore, anche da bonus vedi Gosens, sono difensori che possono fare molto bene a mio avviso, la Lazio sicuramente vorrà posizionarsi bene dopo il capo in Champions contro il Bayern Monaco, abbastanza prevedibile tra l'altro. De Vries è un pilastro della difesa interista, quindi la capolista va comunque premiata. Gosens è un difensore che praticamente gioca in attacco, quindi va sempre schierato potenzialmente, mancherà a Kim in questo match, quindi per questo motivo manca il marocchino. A centrocampo ho messo Mkhitaryan, Veritù, Chiesa ed Eriksen, Eriksen l'ho consigliato anche da tua volta, ha fatto bene, magari non porterà bonus, ma un centrocampista che porta buoni volti comunque fa sempre bene, questo match può essere ancora della sua portata. Chiesa è abbastanza devastante in fase offensiva, quindi questo match contro il Verona potrebbe anche spaccare lui, visto che potenzialmente Morata potrebbe non esserci. Veritù e Mkhitaryan, centrocampisti della Roma a mio avviso vanno sempre messi, soprattutto quando giocano in casa. E la partita contro il Mina, che comunque non ha un periodo di forma entusiasmante, può essere una partita assolutamente da bonus, sia per l'almeno che per i francesi. In attacco Ronaldo, Lukaku e Maglioral. Maglioral un po' per il motivo che dicevo prima dei giocatori della Roma, partita titolare, vista anche la prova di l'assenza di Zeko, comunque Maglioral sarà la punta centrale, quindi Maglioral l'ha messo. Lukaku e Ronaldo chiaramente non si discutono, perché al momento sono i top bomber della Serie A, quindi vanno assolutamente schierati, senza se e senza ma. Poi vi ho fatto un'analisi di schierabilità, tre giocatori per ruolo, in modo da capire quali possono essere i giocatori non schierati nel lato puntici, che possono essere interessabili per una schierabilità interessante. Vi ho messo Reina, per il motivo che dicevo prima per la Cervi, che di fatto la Lazio credo che a Bologna voglia andare a fare bene, quindi potenzialmente c'è anche un possibile clean sheet. Meret è in casa contro il Benevento, il Napoli comunque si attrezza molto bene, subisce poche azioni offensive, quindi credo che il portiere italiano voglia confermare il suo buono stato di salute. E Musso è una partita che potrebbe essere abbastanza da under, per quanto riguarda Udinese e Ferentina, comunque al di là di Malus che possono essere subiti, il portiere argentino che è in odore di Roma, si distingue sempre molto bene per le parate e per i buoni voti, quindi andrei con loro tre. In difesa vi ho messo Darmian, Coulibaly e Zappa, Zappa perché appunto con l'arrivo di semplice potrebbe essere schierato come esterno di centrocampo alto, quindi bene per l'italiano può trovare un po' di verde, persa durante il periodo di Francesco la seconda parte. Coulibaly per il motivo appunto che in casa contro il Benevento sicuramente può giganteggiare. Darmian sostituirà Hakimi e chiaramente anche lui essendo un difensore mascherato a centrocampo può essere impulsore in area d'attacco, quindi a mio avviso potrà fare molto molto bene questo match. A centrocampo Zaccagni, Politano e Kucca. Kucca è anche rigorista e viene da diversi gol segnati nelle ultime partite, quindi da confermare assolutamente. Politano è sempre pericoloso in area avversaria, quindi anche lui può essere molto interessante a livello di bonus e chiaramente Zaccagni sta subendo un periodo di pressione, ma credo che contro la Juventus possa dimostrare di essere un giocatore veramente importante anche a livello di fantacalcio, quindi ci punterà sul giocatore italiano. Chiudiamo con l'attacco, c'è il rientro di Nizola con Vlaovic e Okaka. Nizola sicuramente è una partita sulla carta assolutamente abbordabile, quindi da schierare. Vlaovic e Okaka giocheranno nello stesso match. Come abbiamo detto è un match che comunque può essere da pochi bonus, ma può essere anche una partita sfumeggiante, visto che comunque delle età di classifica non ce ne sono molte. Sì, certo, si giocano il posto per evitare una salvezza abbastanza scomoda, però potrebbe finire un pareggio, potrebbe finire 1-1 ma anche 2-2, e quindi potente a livello di attaccanti come scalabilità. Quindi consiglierei a entrambi i giocatori. Io ho finito questa analisi per quanto riguarda i top 11, i froc 11 e la scalabilità dei reparti. Se avete dubbi e necessità ovviamente iscrivetemi, che vi rispondo praticamente in tempo reale. Vi ricordo di iscrizione al canale YouTube, il veterano del fantacalcio, fatemi crescere. Vi ringrazio, fatemi un po' di passaparola con i vostri amici, con i vostri contatti, non costa nulla. Qui sopra trovate tutti i miei social. Vi ricordo che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo per calcio, quindi siamo protagonisti di un bellissimo gioco. Per qualsiasi necessità sono qui. Vi auguro buona giornata, buon fantacalcio a tutti e a presto, fantacalcio a tutti. Ciao ragazzi!